Io stavo in segreteria di Stato, la Pace Minterris è uscita il giovedì santo e quindi c'erano le vacanze di Pasqua. Io sono venuto qui in Romagna e non avevo ancora letto la cosa. Allora sono venuto e un mio grande amico, che era un laico, mi ha detto, ma donna Achille, ma che cosa ha scritto stavolta il Papa? Che belle cose! Ce le aveste dette 50 anni fa? Cosa c'è di nuovo dentro? Le parole e le formule non sono nuove in sé, ma le parole sono mattoni del discorso. Ci si può fare una casa o una prigione. E i mattoni di Pace Minterris dicono cose che ancora oggi, quando i ragazzi che potevano morire nella guerra atomica sono diventati ormai nonni, stupiscono tutti gli uomini di buona volontà.